Torna a deludere l'epica Sabrinisi che perde, è male a Treviso, 86-60, contro la Nutribullet dell'ex tecnico Frank Vitucci. Una brutta prova dei biancazzurri, come non si vedeva da qualche partita, poco gioco e troppi buchi in difesa. Nonostante il rientro di Giojan Johnson e l'esordio del nuovo play Loren Jackson, non cambiano le cose per i pugliesi, che hanno subito per 40 minuti i veneti, ben messi in campo, più precisi al tiro e determinati a conquistare i due punti in palio. Inizia male da subito per Risma e compagni, che dopo due minuti e mezzo subiscono il 7-0 che costringe il time-out coach Sakota. La musica però è la stessa, con Olisevicius che segna da due dall'arco, con Bowman che si carica minuto dopo minuto. I brindisini sono in grossa difficoltà, in attacco non riescono ad andare a canestro col solo Senglin, che mette dentro cinque punti, gli unici realizzati dalla New Basket, che chiude la frazione sotto di 18-23-5. Nel secondo tempino ci pensa ancora Senglin a suonare la carica per i compagni, crea soluzioni dal palleggio segnando da tre punti in transizione e con i 13 realizzati al referto prova a scuotere i compagni. Per i veneti la panchina è produttiva, Zanelli esce bene, infila i punti che allontanano Brindisi, poi ancora Kai Bowman trova canestri presanti, che tagliano le gambe ai biancazzurri completamente nel pallone. Alla pausa lunga si va negli spogliatoi con i padroni di casa con 22 di vantaggio, 45-23. Quando si torna in campo si si aspetta una reazione dei pugliesi, ma nonostante Tragan Sacco da cambi più volte i quintetti è Treviso ad avere la meglio, con maggiore precisione al tiro, 50% in totale, grazie ai suoi esterni. Morris si vede a sprazzi, Snid alle polveri bagnate e al trentesimo è sempre in doppia cifra il ritardo per l'efficacia 59-42. Nell'ultimo quarto sono gli uomini di Frank Vitucci a comandare il gioco, con Brindisi completamente fuori dalla gara, che sbaglia tanto, perde palloni e non pensa neanche a giocare per una eventuale differenza canestri. Pur senza Policap sottotono, per Treviso, oltre a Bowman, ci pensano Zanelli e Allen a mettere la firma per i primi due punti del campionato, dopo dieci partite. Domenica a Brindisi arriva la Open John Medis-Varese, sicuramente non una squadra di prima fascia, ma a questo punto della stagione la New Basket non può più sbagliare le gare casalinghe. Obbligatorio vincere e provare a fare almeno un colpo esterno, sino al termine del girone di andata.